Benvenuti a questa nuova puntata di Talk Sicilia e affronteremo oggi un tema che è molto sentito in questi ultimi mesi, se ne parla sempre di più e cerchiamo di affrontarlo con un ospite che è sicuramente esperto in questa materia. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, abbiamo messo un titolo che è abbastanza chiaro perché minaccia opportunità, c'è chi grida e mostra tutti quelli che possono essere i problemi che vengono fuori dall'intelligenza artificiale, c'è invece chi ne parla come una grande opportunità, un po' come tutte le grandi rivoluzioni, come tutte le grandi svolte che ci sono state nel corso dei secoli. Quando è arrivato il computer è lo stesso, si sono dette tante di quelle cose, poi abbiamo continuato a vivere insieme e convivere. Conviveremo ancora con l'intelligenza artificiale Giovanni Villino, il nostro ospite, collega del Telegiornale di Sicilia che segue da vicino sempre tutti questi temi. E allora? Sì, buon pomeriggio, buonasera Ignazio. Un tema che appassiona, che piace, che divide. Come hai detto bene tu, è stata una parola, rivoluzioni. Io penso sempre alla rivoluzione industriale, la prima, la seconda, macchina a vapore. Cos'è successo? Ha rivoluzionato i processi produttivi, ma allo stesso tempo ha creato degli svantaggi, perché molte persone, migliaia di lavoratori, perdevano il loro posto di lavoro. Allo stesso tempo migliorava però la qualità della vita. Sembrano le due cose in opposizione, in realtà è un processo storico che si è accompagnato poi alla creazione di nuove figure professionali. Ecco, l'intelligenza artificiale possiamo inserirla in questo processo di rivoluzione. Non è qualcosa di nuovo, di rivoluzione di intelligenza artificiale, in realtà se ne parla dagli anni 50, il test di Turing. Insomma, c'è veramente una storia alle spalle lunghissima. Oggi se ne parla con più forza per due motivi essenzialmente. Uno, dall'introduzione degli algoritmi nei social e dall'altra parte questo chat GPT che ha rivoluzionato anche le vite di centinaia di migliaia di studenti. Lo spieghiamo cos'è, perché di come è sicuramente... Chat GPT è essenzialmente una chat aperta con un'intelligenza artificiale, che significa che è in grado di produrre, di generare risposte, infatti è detta generativa e si riferisce per lo più al linguaggio. Ora, cosa succede con questa intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale apprende, ma apprende sia dalla mole di dati che è stata caricata, e su questo ora andremo a vedere che cosa significa, dall'altra parte, anche attraverso il nostro dialogo con la macchina, ecco, questa apprende e si modella a quello che è il nostro modello. Ma, chiariamo, non è un essere umano, ha una conoscenza perché è stata caricata da qualcuno. La grande domanda, infatti, è anche questa. Chat GPT, quali sono le fonti? Che dati sono stati caricati? Perché se a un certo punto... Sono tre livelli, no? Anzi, quattro adesso sono i livelli. Ma il problema è, e se sono caricate informazioni con dei pregiudizi, per dire, porto il mio, le persone con pochi capelli o senza capelli solitamente sono meno intelligenti degli altri. Ecco, questa informazione la prende da un libro, da un volume che viene caricato. Diciamo che la prima fase, dico perché qualche cosa ho letto, se mi correggi, se sbaglio, la prima fase sono stati caricati dai testi senza nessun controllo, senza nessuno, ne ha addirittura libri non pubblicati, se non ricordo male, anche per un problema di diritti d'autore, perché là si aprirà una pagina infinita di queste cose, tant'è che per un periodo il nostro garante ha bloccato con il problema legato ai dati personali e tutta una serie, quindi si aprono mondi veramente incredibili. Comunque, poi successivamente sono stati inseriti dei volumi, delle quali, adesso quello qua, il quarto, il quarto livello che è quello a pagamento, credo che ci siano dei testi e tutta una serie di dati che sono un po' più controllati e un po' più, diciamo... Dovrebbero essere più controllati, dovrebbe esserci una trattabilità. Esatto, anche perché tu paghi col quarto livello e a pagamento, quindi già diciamo, già un servizio diverso rispetto al terzo. Ma parliamo sempre, è bene ripeterlo, l'intelligenza artificiale esiste perché esiste un uomo che carica questi dati e l'intelligenza artificiale sicuramente poi è in grado di elaborare, di produrre qualcosa di veramente notevole in tempi e in modalità che se fossero affidati a un essere umano, beh, non ne usciremmo velocemente. Poi c'è tutto un altro mondo, perché l'intelligenza artificiale non si blocca a chat GPT. Pensiamo il deepfake. Canale 5 ci ha abituato, ricorderai, quando abbiamo visto Matteo Renzi in quel famoso fuorionda a chiacchierare e dire parole che avrebbero messo in subbuio tutto il Parlamento se fossero state vere. Ma non erano vere, ma la gente era in grado di interpretare questo deepfake. Oggi è possibile, per esempio, registrare la mia voce, il mio parlato adesso e rielaborare il mio parlato e farmi parlare in inglese, in francese, in spagnolo, ma non solo questo. Anche nel campo editoriale del giornalismo, e qui si apre un'altra pagina, noi possiamo creare i nostri modelli, passare, diciamolo in modo improprio, una sorta di scan su di noi, 360 gradi, e la nostra voce sintetizzarla, registrarla. Bene, un domani non ci sarà bisogno di Giovanni Villino che va in onda in tv a leggere il telegiornale. Basterà una semplice cosa, caricare un testo, inviarlo al software, e poi in onda andrà Giovanni Villino, il mio avatar, che parlerà agli spettatori. Ma quel Giovanni Villino non è reale, è un'immagine elaborata da un computer. E qui si apre un'altra pagina, che è quella. Ma c'è la certezza che si colga sempre la differenza, e soprattutto quanto può essere orientata e veicolata l'opinione pubblica. Anche perché, altro esempio che tu hai portato, è che io in qualche modo muto, e l'intelligenza artificiale è uno strumento, come il coltello. Io il coltello lo posso usare per spalmare la nutella sul pane. Ecco, questo gesto è noto e tenero. Ma allo stesso tempo il coltello lo posso usare per uccidere qualcuno. Ora, il coltello in sé non è né buono né cattivo. E' l'uso che ne facciamo, e le conseguenze che quindi vengono determinate dall'uso, che dà anche l'accezione positiva o negativa dello strumento. Così è l'intelligenza artificiale. Noi siamo di fronte a qualcosa, dove il rischio è che la creatura superi il suo creatore, perché se non si pongono degli argini, si rischia di finire in un mondo dove a governare potrebbero essere le macchine. Questo, dico, stiamo parlando tra qualche anno. Tra qualche anno, ma io non la vedo molto distante. Però c'è un problema, dico che l'uomo non è fatto soltanto né di conoscenza né di sapere. Ci sono tantissime cose, come mi spiegava mia moglie, che è esperta in lingua dei segni, che hanno provato a fare un ologramma con l'intelligenza artificiale per fare la traduzione in lingua dei segni. Ebbene, non riesce moltissimo perché l'ologramma non capisce l'ironia, non capisce le emozioni, e non sa nemmeno interpretare bene quelle che sono tutte quelle sfumature che abbiamo nella lingua, in qualunque lingua, perché una parola detta in un modo, con un'intonazione, cambia completamente. Quindi questo, dico, è sempre una cosa che ci fa comprendere comunque che l'apporto umano è sempre fondamentale, perché l'uomo non è soltanto conoscenza. Però si stanno lavorando, stanno lavorando per esempio una cosa che è l'empatia, cioè queste macchine possono a un certo punto sviluppare anche quegli elementi che le fanno apparire a noi come empatiche. La disambiguazione del linguaggio in realtà è una cosa che esiste già, che intendo. Noi possiamo avere espressioni, mettiamo sui social, anche colorite, dire qualcosa di particolare o un doppio senso. Oggi, soprattutto questo accade anche nell'intelligence, nei lavori che fanno di intelligence, ci sono dei software che rilevano rilevano e fanno disambiguazione sulle parole, cioè riescono a cogliere contesto e interpretano il messaggio. Però è una bomba, diciamo, sei una bomba oppure... Esatto, esatto. Oggi c'è una cosa, c'è qualcosa che riesce a disambiguare. E poi l'altra cosa, io leggo questo titolo che avete dato al nostro incontro, l'intelligenza artificiale minaccia opportunità. C'è anche altro che a me fa pensare, vedete, una suggestione che mi è venuta più volte. Ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe anche determinare la nostra sopravvivenza, l'immortalità. In che senso? Io faccio una cosa, col mio computer, col mio software, prendo il profilo di Ignazio Marchese, lo passo, lo analizzo, scannerizzo quei contenuti che Ignazio ha scritto nel corso degli anni e dico al mio computer, intanto elabora quello che di audio e di video c'è di Ignazio. Ho preso questi elementi, sono in grado di ricostruire un Ignazio virtuale, un suo avatar. Poi andiamo a prendere i suoi pensieri, andiamo a prendere le sue reazioni ai post altrui, andiamo a vedere cosa fa sorridere Ignazio e cosa no. Ho tutti questi elementi in mano, io genererò l'Ignazio del futuro, per cui fra 200 anni, fra 200 anni io parlerò con Ignazio attraverso un'intelligenza artificiale generativa, per cui Ignazio, sulla base del suo bagaglio culturale che ha esternato sui social, su quello che lui ha scritto, sul modo suo di esprimersi, quando fra 200 anni i suoi pronipoti o chiunque vorrà parlare con il giornalista Ignazio Marchese potrà farlo e avrà in un luogo immersivo, perché ormai più di metaverso si parla di realtà immersiva, incontrerà Ignazio Marchese e avrà la percezione di parlare con Ignazio Marchese del 2023. Ho capito. Bene. Questa è anche una di quelle cose su cui si sta lavorando. E invece si sta lavorando, noi siamo giornalisti, con questa intelligenza artificiale dobbiamo temere, si pensa che praticamente ci saranno editori che prenderanno l'intelligenza artificiale e sostituiranno i giornalisti per fare gli articoli. È una prospettiva credibile? Allora Ignazio, se io ti faccio una domanda, la nostra categoria, se tu potessi definirla, la definiresti una categoria entusiasta e ottimista? No, solitamente no. Diciamo, l'intelligenza artificiale agevola, insomma, questa tendenza al declino, come stiamo male, come stiamo male, o come siamo fatti male. io penso che l'editore in genere dovrà sempre di più recuperare la sua vocazione di essere editore, che non è un semplice imprenditore. Il rischio a cui mi fanno pensare le tue parole è quello di fare di più con meno. se io ho un computer che mi fa il lavoro di un redattore che prende i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, perché poi di questo si parla, ed esistono già queste cose, non è fantascienza, questo, già alcuni giornali lo usano questo strumento, quindi... In America l'hanno utilizzato. Anche in Italia. Sì, sì, sì. L'Ansa. Sì, sì, sì. Sì, sì, è una cosa già usata. Dicono per fare piccole e brevi. Piccole e brevi, esatto. Dicono per fare piccole e brevi. Però io pongo... Però secondo me lo usano anche per fare grandi brevi. Esatto. Brevoni. Allora, ma il problema è... Allora, mettiamo questa situazione nei campi flegrei che si sta seguendo con particolare attenzione, il... Cioè, insomma... Il rischio, diciamo, del vesuto e tutto. Allora, c'è l'intelligenza artificiale che pesca i dati del terremoto dal file CSV o dal file XML più che CSV, scusate, XML e pesca questi dati e dice scossa di magnitudo 3.1 registrata a 2 km di profondità a Pozzuoli, bla 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 compone la breve come se fosse un breve articolo giornalistico e la pubblica perché può anche pubblicarla. giornalista presente zero. Ma se a un certo punto c'è un fenomeno da analizzare, l'intelligenza artificiale non è nelle condizioni di fare una valutazione, di fare collegamenti, implementandola in un futuro ci sarà magari anche questo, ma il creare storie, il creare collegamenti l'abbiamo soltanto noi. Cioè noi non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, dobbiamo conoscerla per poter usare. Ma i tuoi timori sono fondati perché noi ci ritroveremo come già alcuni giornalisti tedeschi e altri stanno dicendo ai giornalisti bye bye, ma io ti faccio un'altra domanda. Tu sei un cronista di razza, sei uno che nella sua carriera ha sempre portato notizie, ha scritto, ma dobbiamo dire che nella nostra categoria ci sono anche i giornalisti che fanno lavoro di cucina, che riportano delle agenzie, le rimpastano e le mettono online. Ecco, forse queste figure serviranno sempre meno e serviranno figure di giornalisti invece che scrivono le storie, perché quel lavoro manuale di trasferimento di una notizia rimpastandola e pubblicandola online, ecco, questo forse non servirà più. Il giornalista che va sul posto e che prende le notizie quello sarà fondamentale. Perché sappiamo benissimo che sia il lettore sia chi è che fa questo messaggio da tanti anni si accorgia quando un pezzo è scritto da dietro al computer o direttamente sul posto cambiano tutte cose, quindi questo è evidente. Però effettivamente se tu inserisci quattro dati bisogna, cioè, però questi quattro dati bisogna inserire i giusti e con coscienza con tutta la questione legata appunto come dicevi tu, pregiudizio, tutte le nostre regole deontologiche che sono tante sui minori, sulle donne, sulle vittime. Ci sono tante variabili che vanno applicate. esatto. E poi c'è la qualità della storia che si racconta per cui, ripeto, è vero, probabilmente è una minaccia l'intelligenza artificiale per un certo tipo di professione. È un'opportunità sempre per la stessa professione perché Ignazio, porto un tuo esempio, Giovanni, invece di dedicarsi al trasferire e all'impastare una notizia si potrebbe dedicare ad alzarsi, andare in un posto e trovare notizie e scrivere una storia. Quello resta fondamentale. Quindi la professione non è che sarà compromessa dall'intelligenza artificiale, anzi, forse si tornerà alle origini quando con taccuino alla mano si andava sul posto e si va tuttora sul posto. Io pur essendo un avante del mondo digitale non abbandono la carta, cioè io prendo gli appunti quando vado fuori li metto nero su bianco non per una questione di nostalgia ma perché diciamo qui quel dato mi rimane certo poi posso registrare l'audio e questo non cesserà mai. Hai scritto un libro su questo tema? In realtà più che un libro è una piccola guida che ho voluto una piccola guida che è giornalisti con intelligenza artificiale voleva essere in realtà un taccuino una guida per i neofiti perché racconto un po' dalle origini dell'intelligenza artificiale alle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale nella professione giornalistica. Ho scelto il formato tra l'altro dell'autopubblicazione su Amazon per saltare in parte una serie di passaggi poter lavorare su un prezzo e farlo più contenuto per i colleghi perché diciamo è qualcosa di divulgativo non se ne trae guadagno diciamo da questa cosa per cui più di servizio e ho scelto di fare E cosa ci dici in questo libro? In questo libro in poche parole ti se dovesse rispondere a quella domanda minaccia opportunità il libro ti dice che l'intelligenza artificiale è un'opportunità una grandissima opportunità siamo dentro la più grande rivoluzione dell'ultimo secolo forse perché tra l'altro hanno investito un sacco di soldi non è nato in un garage diciamo sono stati proprio hanno speso noi siamo dentro questa cosa che socialmente è fondamentale essere consapevoli oggi di trovarsi in mezzo a questa fase di transizione dove poi sarà di massa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale io dico sempre che avere la conoscenza ci permette di essere consapevoli se siamo consapevoli resistiamo e ci ribelliamo questo vale su tutti gli ambiti quello politico quello sociale la conoscenza ci permette di resistere o di ribellarci se siamo ignoranti abbiamo paura delle novità e finiremo per essere schiacciati i primi che sicuramente stanno approfittando dell'intelligenza artificiale sono gli studenti grandissimi sono come sempre quelli che tra l'altro ci sono app che fotografi il compito lo prende e te lo rielabora e lo rielabora tu l'avresti utilizzata ai tuoi tempi? beh non lo so ai nostri tempi non so se ti ricordi c'erano quei librettini con i temi che si ritagliavano si arrotolavano si utilizzavano sempre una serie di allora io devo dirti che invece usavo le canzoni ormai il mio professore non c'è più di italiano c'erano temi piuttosto complessi siccome avevo una buona memoria musicale anche testi inglesi dei Beatles che andavo traducendo mettendo lì e lui diceva hai un'ottima poetica sì sì professore a che modo mi aiuto quindi appunto dico ci sono sempre sono sempre degli strumenti sicuramente da utilizzare qual è lo scenario futuro? lo scenario futuro secondo me è quello intanto proseguirà questo clima di confusione ci sarà un po' la caccia alle streghe si griderà attenzione attenzione io anche in questo caso dico sempre di fronte ai denti del cambiamento possiamo scegliere due cose o alzare muri per proteggerci o costruire mulini a vento ecco ognuno sceglie secondo le proprie possibilità ovviamente è più asfigabile la seconda perché da quel vento possiamo trarne profitto per generare qualcosa di buono quindi per questo ti stai sì esatto ti sei interessato in questo tema perché nel caputo di votare la potere diciamo e quanto siamo consapevoli di questo secondo te adesso secondo me molto poco molto poco e questo diciamo aumenta il livello di rischio perché poi quando ci troviamo di fronte a fatti compiuti ecco pochi oggi hanno la consapevolezza ma a partire dai social già è tuttora i rischi che si corrono con i social le cronache ce l'hanno detto anche i fatti di violenza non si comprende quanto i social stiano diventando una cassa di risonanza pericolosissima per i reati per l'emulazione e per tanti aspetti certo sicuramente questi sono tutti i temi che possiamo anche affrontare in un prossimo appuntamento perché il tempo diciamo è volato via sono stati tanti i temi trattati e sicuramente Giovanni Villino lo troveremo qui qualche altra volta che così vedremo di affrontare temi anche molto più precisi e specifici tanto di intelligenza artificiale ne parleremo di qua ai prossimi anni io ti ringrazio davvero tanto di essere intervenuto e vi do appuntamento alla prossima puntata buona giornata buona giornata buona giornata